Siamo qui a Maggisano a festeggiare il nostro ferravosto italiano con gli amici, famiglia Falcone, sono le levate la luna. Siamo andati in gastronomia a Maggisano. La superstata paesana, qui c'è quelle che mangiano poco, fanno in dieta, fanno in dieta e mischiamo il vicus e la superstata. E questo è qui. E questo è qui. Qua desiderano la polenta...